Buonasera a tutti voi che ci seguite su BINXI ARTE TV. Siamo qui oggi all'inaugurazione del nuovo locale, il Club Lady D. Siamo in compagnia della proprietaria, Diana. In questo periodo di grande crisi economica e occupazionale, l'apertura di un nuovo locale rappresenta una grande opportunità. Diana, che cosa ne pensi di questa tua nuova avventura? Posso dire che questo era il mio sogno di quando ero piccola e finalmente sono riuscita a realizzarlo. Purtroppo nel nostro territorio lucano non ci sono molte opportunità lavorative per i giovani e molti sono costretti a emigrare. Oggi posso dire di avercela fatta. L'impegno nel sociale, assunto dal dottor magistrale Giuseppe Grieco, vicepresidente dell'associazione Atrante 2000, si fa sentire su tutto il territorio lucano. Diana, che cosa ne pensi a proposito? Io ringrazio di cuore il dottor Giuseppe Grieco per avermi dato la possibilità di pubblicizzare l'apertura del mio nuovo locale. È una persona molto professionale, ma soprattutto di grande umanità. Un ringraziamento speciale va ad Angelo Luigi Galli, Rosanna Ciardiello e Loredana Ciardiello, rispettivamente vicepresidente e segretaria del club. Un altro saluto va al padrone del locale, Luciano Verde, il locatario, per la fiducia data a Diana. Ed infine ringraziamo tutti gli amici e in particolare Andrea Schirò, Antonio Aiuola, Michele Santoro, Tonino Pronto e Romeo Di Tolve. Da BINXI Arte TV è tutto, vi auguro buona serata. Grazie.